Rappinarono Rolex al forte arrestati a Napoli. Si tratta di tre persone ritenute responsabili della rapina ai danni di un imprenditore pratese l'anno scorso. Precard al via i contratti di solidarietà, primo provvedimento per arginare le difficoltà dell'azienda di Villa Basilica che conta 50 dipendenti. Carnevale, il quinto corso aperto dallo Sgarbi Show, il sottosegretario sul palco di Piazza Mazzini per lanciare il concerto di un extra liscio sabato, l'ultima sfilata dei carri. Lucchese Vincente ricomincia da tre, la netta vittoria sulla Vispesaro rilancia le ambizioni dei rossoneri, brillano il giovane Bruzzaniti e gli esperti di Quinzio e Tiritiello. Domenica trasferta al Brilli Peri di Montevalli. Basketball club Lucca travolge e cala un bel tris, terzo successo consecutivo per la squadra di Coach Nalin che batte Valdarno e pare aver innescato la marcia giusta. Simonetti e Capitan Barsanti, i trascinatori dei Biancorossi. Ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale, lo avete sentito anche dai nostri titoli di apertura in primo piano, la cronaca, sono stati arrestati tre uomini a Napoli a seguito delle indagini condotte dai carabinieri di Viareggio dopo la rapina di un Rolex Daytona avvenuta ai danni di un imprenditore pratese lo scorso marzo. Nelle prime ore della mattinata i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Viareggio, supportati dai militari del comando provinciale di Napoli, hanno tratto in arresto tre uomini, uno residente a fratta maggiore di Napoli e di restanti residenti a Napoli nella zona Forcella. I tre soggetti sono indagati a vario titolo per la rapina di un prezioso orologio compiuto a Forte dei Marmi nel mese di marzo dello scorso anno. L'indagine condotta dai militari dell'Adi Viareggio e coordinata dalla Procura di Ducca ha consentito di attribuire ai soggetti arrestati sia l'organizzazione che l'esecuzione materiale del colpo, nel corso del quale è stato rapinato un orologio Rolex modello Daytona del valore di circa 40.000 euro ai danni di un uomo originario della provincia di Prato mentre passeggiava nei pressi del pontile di Forte dei Marmi. Uno dei malviventi, dopo aver strappato l'orologio dal polso dell'uomo, era stato inseguito a piedi dalla vittima e dopo una breve colluttazione era riuscito a fuggire salendo a bordo di uno scooter condotto da un complice. Dalle indagini è poi emerso che i due avevano un terzo complice a bordo di un'auto e con questo avevano raggiunto Forte dei Marmi partendo da Napoli. Ai tre è stato imputato anche un tentativo di furto analogo avvenuto a Cannes ai danni di un turista russo ma in quel caso la rapina non andò a buon fine. Tutti elementi che hanno fatto scattare il blitz captato all'arresto degli indagati che sono stati trasferiti nel carcere di Poggio Reale. I carabinieri di Lucca hanno arrestato un medico di 42 anni con l'accusa di tentato omicidio. Domenica sera avrebbe infatti provocato un importante trauma ad un paziente ultraottantenne. Per questi fatti il magistrato di turno ha disposto l'arresto in carcere. Giovedì alle 12 di fronte alla GIP Antonia Aracri del Tribunale di Lucca l'interrogatorio di garanzia del medico. Ci spostiamo a Gallicano. I carabinieri di Castelnuovo hanno denunciato quattro cittadini di nazionalità marocchina di 24, 38, 40 e 46 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari con supporto dei carabinieri di Gallicano e Coreglia e dell'unità cinofila di San Rossore hanno perquisito la casa che i quattro coabitavano. Durante i controlli sono stati rinvenute alcune dosi di cocaina, 10 grammi di hashish, quasi 800 euro in contanti e materiale per il confezionamento dello stupefacente in dosi. Andiamo a Forte dei Marmi. Un'auto sfonda una vetrina. Clamoroso incidente stradale in pieno centro a Forte dei Marmi in mattinata, per fortuna senza conseguenze gravi. Intorno alle 8 un'auto che percorreva via Duca d'Aosta in direzione Monti, a pochi metri dalla chiesa di Sant'Ermete, ha perso il controllo e ha invaso il marciapiedi abbattendo tavoli e arredi del ristorante Terra Mare. Grande lo spavento da parte delle persone presenti che sono a corse dopo il forte botto. La paura nei primi momenti in cui è scattato l'allarme alle forze dell'ordine è stata tanta, anche perché l'orario del sinistro coincideva con l'ingresso degli alunni delle vicine scuole elementari. La polizia municipale, arrivata sul posto, ha verificato che non c'erano altri veicoli coinvolti e ha svolto i rilevi di rito, effettuando tutti gli accertamenti necessari sullo stato del conducente. Si tratta di un 72enne residente a Forte dei Marmi. L'uomo ha ricevuto le prime cure del caso da parte dei sanitari del 118. Da una prima verifica è stato escluso l'abuso di alcol. Per lui si profila una sanzione per l'omesso controllo, oltre a dover ripagare le spese per i danni arrecati all'attività commerciale. La provincia ha disposto alla chiusura del secondo piano della palazzina ex villa dell'Istituto Agrario Busdraghi di Mutigliano, utilizzata come laboratorio di informatica e di fisica. I tecnici della provincia, infatti, nel corso di un sopralluogo per la consueta manutenzione ordinaria, si sono accorti del cedimento di una trave della copertura, che ha prodotto un leggero avvallamento di una porzione del tetto. Nei prossimi giorni il solaio sarà puntellato in attesa di ulteriori verifiche strutturali. Trattandosi comunque di un'ala destinata ai laboratori, la chiusura non dovrebbe creare particolari disagi nello svolgimento dell'attività didattica della scuola. A Villa Basilica ci occupiamo di macchine per cartiera al via i contratti di solidarietà alla RECARD. Partono i contratti di solidarietà per i 50 dipendenti della RECARD, la storica azienda di macchine per cartiera con sede in località Biecina a Villa Basilica. La misura è stata adottata lunedì nel corso di un incontro tra sindacati ed azienda come primo atto per gestire la crisi della ditta alle prese con una forte contrazione del fatturato. Sul lungo e medio periodo si lavora invece per scongiurare il fallimento. L'obiettivo è quello della ristrutturazione del debito attraverso un concordato preventivo, in sostanza un accordo con i creditori. A questo proposito la prossima scadenza è la nomina del commissario giudiziale da parte del Tribunale. La soluzione alternativa per risolvere la crisi sarebbe quella di un passaggio di proprietà o dell'ingresso di un nuovo socio. Sembra che si stia lavorando anche su questo fronte. Fondata nel 1962, la RECARD è specializzata nella progettazione e produzione su misura di impianti e macchine per la carta tissue. La sindaca di Villa Basilica Elisa Nelli ed il vice Giordano Ballini hanno garantito il loro impegno per risolvere la situazione. La folla ha accolto il quinto corso mascherato del Carnevale di Viareggio in versione notturna. Il corso del Mar di Grasso è iniziato all'insegna del Vittorio Sgarbi Show. Il sottosegretario, arrivato a Viareggio per assistere all'esibizione dell'orchestra Extra Liscio sul palco di Piazza Mazzini, si è prima ironicamente qualificato come sindaco supplente di Viareggio, poi ha lanciato così il concerto. E allora gli Extra Liscio uniscono Adriatico e Tirreno e ne fanno un unico mare, il mare del divertimento, della felicità, dell'assesso selvaggio. Infine si è congedato con un riferimento alla recente polemica di Torre del Lago. Dopo, al microfono di Federico Conti, però Sgarbi ha disinnescato ogni polemica sul belvedere, anzi, ha detto di non avere intenzione di rallentare nessun progetto e di aver solo chiesto l'attenzione del Ministero sul tema della conservazione dei beni storici. Poi è andato in scena il corso in notturna, con i cari di prima e seconda categoria, le mascherate e le pedane aggregative, rese ancora più affascinanti dai giochi di luce. Anche stavolta la sfilata è stata accompagnata da una folla decisamente superiore alle attese, visto il giorno lavorativo. Adesso tutta l'attenzione per l'atto finale del Carnevale, l'ultimo corso, in programma sabato 25 febbraio, a partire dalle ore 18, al termine del quale saranno decretati i vincitori di questa edizione. Il tutto sarà trasmesso in diretta da Noi TV. Non fidarsi è bene, fidarsi è meglio. Altopascio prende parte al progetto dell'agenzia Fondazione Casa. Altopascio assieme a Lucca e Capannori per rispondere all'emergenza abitativa. Le tre amministrazioni prendono parte al progetto Non fidarsi è bene, fidarsi è meglio, realizzato in collaborazione con Arci di Ocesi di Lucca, Fondazione Casa e Gbai per invitare i proprietari di case sfitte a destinare gli immobili all'housing sociale, grazie alle garanzie dell'agenzia sociale per la casa. È un intervento importante, un investimento notevole, che proprio vuole cercare di bypassare tutti quei problemi burocratici e di diffidenza soprattutto dei proprietari ad affittare a persone che hanno poche garanzie. La garanzia di fatto la dà il pubblico. Attraverso il fondo di garanzia finanziato dai comuni, l'agenzia sociale per la casa offre tre diverse azioni di supporto all'affitto. Primo un piccolo fondo che arriva fino a 10.000 euro ai proprietari per poter ristrutturare il loro appartamento, il loro immobile e soprattutto garantiamo il pagamento del canone in caso in cui l'inquilino, il conduttore, non lo possa pagare. In più ci dedichiamo con mediatori sociali che possono seguire il conduttore nell'appartamento e quindi fare anche in modo che l'appartamento sia mantenuto in buone condizioni e ci sia un contatto diretto con la proprietà. Al termine del contratto, l'agenzia si occuperà poi di restituire l'abitazione nelle condizioni in cui è stata ricevuta, mentre se il proprietario deciderà di locarla nuovamente, provvederà a individuare un nuovo inquilino, così da garantire la continuità. E con questa notizia chiudiamo la prima parte del nostro telegiornale, una breve pausa e poi la nostra pagina sportiva. Grazie.